No vabbè raga non potete capire in che ritardo sono io oggi Siamo anche oggi in giro con Fabrizio, l'altro youtuber dell'altra volta E dovevamo vederci alle 3 e sono le 4 raga Raga un'ora di ritardo No bisogna che mi invento una scusa Fra non puoi capire, non puoi capire cosa mi è successo Non puoi capire cosa mi è successo Oh allora E' arrivato il cazzo di tecnico che mi deve montare la dolcificatore dell'acqua Perché dove abito io c'è molto calcare Oh arriva Mi fa ascolta ti chiedo solo una roba se mi stacchi il contenitore dell'acqua Ok te lo stacco Vado a staccarlo Michia inizia a tirare era duro come provare a sfondare il cemento Non veniva non veniva te lo giuro Allora dico Michia oh Qua c'è Speedy Wheels che sta aspettando Quindi gli devo tirare di ignoranza Gli tiro di ignoranza ho spaccato tutto Ho spaccato Non ha idea Non ha idea E il bello è che non ho spaccato solo la leva Ho spaccato anche tutto l'inserto dentro E quindi non riesci a girare neanche con le cagnole Ho dovuto chiamarle era Eh tecnico ho spaccato tutto Vieni qua Ed io Incredibile Incredibile Porca cazzo la puttana Bellissimo Attenzione ragazzi ci scemo Oh ti spostano che devo fare una ripresa del passo della colla Allora Passo della colla Open Open Bella MT 09 Z Ora sei grosso Dai Speedy Gonzales Dai Speedy Dai Speedy Dai Speedy col tornantello Dai Speedy col tornantello Volevo superare l'esterno curva però ho detto vabbè dai Lascia stare che ci ammazziamo Dai Speedy Dai Speedy E la madosca Dai Speedy Quello a destra è il gas eh Quello a destra è il gas A destra A destra è il gas A destra è il gas E a destra è il gas Speedy 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 Vai o no Dai 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 Vai o no Speedy 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 Si Speedy Ma raga Speedy Wheels Con il giubbotto Speedy Cioè ma sei troppo avanti Sei troppo avanti Poi di cognome lui fa verde Si chiama Fabrizio Verde Di che color è il giubbotto? Verde Di che color è la moto? Verde Sei troppo avanti vecchio Trova un po' piano Dai 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 Si Speedy Si Speedy Che quasi l'asfalto ho messo bene Attenzione Attenzione Si va Z900 WS Duke Tra i 90 Si Speedy Si Speedy Si Speedy Gonzales Ah che bello Sto facendo una cazzata raga Mi sa No è una cazzata Mi ammazzo raga Dai con sto bagaglio Non ti sei mai fermato qua te nella tua vita? No E' questa che ti dicevo non quella là Ah io pensavo quella No infatti guarda La prima volta che sono venuto qua Il presente è che là dopo si vede tutto il panorama Mentre vieni giù Si Non ci ho guardato perché ero concentrato sulla strada Vieni con me Mi sono fermato qui che vedi soltanto sta cazzo di roccia Tu arrivi qua no? Vedi soltanto sta roccia Sali 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 Hai capito la situazione? Pazzesco eh Cioè è proprio solo verde È incredibile Solo me Solo te Che coglione Mettiamo le due moto vicine E voglio fare una bella copertina Ah lei che me l'ha Porca vado No no ci passo ci passo Eccoci qua Bene Ora il problema sarà girarci No vai tranquillo Speedy wheelies Io intimo c'è speedy wheelies Eh Non male Ma invece di girarti lì vai avanti da qui e giri qui No Guarda che faccio il danno Guarda che faccio il danno Facciamogli vedere come si gira una moto Facciamogli vedere come si gira una moto Facciamogli vedere come si gira una moto Attenzione Indietro Fortissimo Fortissimo indietro Prima Sperando che non arrivi nessuno di là Ecco Ecco Pianino adesso che abbiamo le gomme tutte sporche Caffè Va bene Vai su come un camocho Eh Vai su come un camocho Che asso vuol dire Vai su come un camocho Vai su come un camocho Non ho visto il camocho di Sarranti che è sulla montagna No Non hai mai visto un camocho Che cazzo è il camocho Mi stai perculando Ma davvero fai No tu sei serio Mi stai perculando Lo cerco su internet Caffè e poi Ciao grazie Arrivederci Bene Pausa caffettino fatta E adesso ci avviamo verso Casina Ottana Safet Burdell Safet Safet Burdell Safet Comunque adesso mi sono anche adoperato per comprare degli interfoni In modo che nei prossimi giri riusciamo anche a parlare No Sia con lui Lui c'era già l'interfono in realtà Sia soprattutto con Andrea Quello con la 07 Speleopolis Attenzione Attenzione Qua gli entriamo Qua gli entriamo Gli entriamo Gli entriamo Gli entriamo aggressivi allo Speedywell In curva In curva Gli entriamo aggressivi Gli entriamo aggressivi No Troppo Troppo rischioso raga Non si fanno queste cose Non si fanno Vecchio Mi fai fare uno sparo? Eh? Mi fai fare uno sparo? No Mi fai fare uno sparo? Vuoi fare uno sparo? Uno sparo No No Io con la tua Con la mia Aspetta Allora qui Il ragazzetto Ragazzi Mi fai fare uno sparo Con la tua Allora L'altro ieri Mi hai detto Che io Sono troppo vecchio Allora Ti giri Ti dico Non sei abbastanza anziano Dai Va bene Mi vuoi paccare il giro Con la Z Va bene Non c'è problema No La prossima volta Dai Segno È stato un piacere Dai Perché ho visto Il video Delle MT07 Che coppia Se ti sei Impressionato Con quella È che È che è diversa Io non ho mai Provato un quattro cilindri Capito? Mai Mai La prossima volta Ti faccio farlo Farlo Psicologicamente Perché c'è molta coppia Sui bassi giri Capito? C'è una molta Sui bassi Tipo A 3.000 Inizia E ti dà la manata Fino ai 13.000 Ah sì? Se vuoi ti faccio Salire dietro No Vecchio Ho paura Vai Occhio al dosso L'avevi visto il dosso Vecchio Falco di Comunque Questa è soltanto Prima e seconda E senza dargli tutto il gas Ok Quindi per quello È un attimino titubante Ci vediamo Anche lui Iguale Quello che ha detto Prossimo video Ciao 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 Va bene raga E anche oggi è andata Vi lascio il canale Dell'altro matto In descrizione E niente Bella raga Ciao 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 Ciao